Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Porky e oggi siamo tornati qui sul TechDug Enrangement. Per la scorsa fatta abbiamo affrontato i finiti ai livelli del mondo 4, oggi invece andiamo avanti. Stai di blu, ah bravo. Ok. Ok. Nooo. Meno male. Vabbè, vediamo un po', vediamo un po' cosa fare. Ah, ah no, no, non ha una particolare funzione. No. Dannazione, ho mosso la roccia. Ok. Vedete che devo aspettare che... Eh. Aspetta. Ah, no, 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 niente. No. 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 alla fine il gioco alla fine qualcuno si è deciso a venire qui ok ok bene ragazzi io direi che per questa parte può essere tutto spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video ciao